Cloud Hosting di Aruba Business è disponibile in versione monodominio e multidominio. Il piano monodominio è pensato per la gestione di un singolo sito ed include la registrazione e il trasferimento di un dominio, un gigabyte di RAM ed una virtual CPU, spazio web illimitato su storage full SSD, database illimitati da 1 giga, 10 account mail da 2 giga, 1 giga di inbox e 1 giga di archivio. Sono inclusi inoltre backup dello spazio web dei database, un sistema integrato di statistiche e Softaculous per l'installazione dei principali CMS. Al momento dell'acquisto puoi scegliere il sistema operativo, Linux oppure Windows, Windows, il pannello di controllo, Plesk, oppure Cpanel. Ricordiamo che Plesk è disponibile su Windows e su Linux, mentre Cpanel esclusivamente su Linux. Se hai bisogno di maggiori risorse, oppure se vuoi gestire più siti, il piano che fa per te è il multidominio. Cloud Hosting multidominio permette di gestire illimitati siti web, dispone di una quantità base di RAM di 2 gigabyte, che puoi aumentare fino ad 8 giga o al momento dell'acquisto, oppure in totale continuità di servizio quando vuoi, successivamente.